Una giornata in caserma per i giovani aspiranti militari WFI. La caserma Pasquali, sede del nono reggimento alpini, ha aperto le sue porte per un open day a favore dei volontari in ferma iniziale del terzo blocco 2004, giornata condotta dal personale dell'Info Team del Comando Militare Esercito Abruzzo Molise. Gli aspiranti soldati provenienti dall'intera regione hanno potuto vivere un'esperienza reale di vita militare partecipando al Sub Bandiera che rappresenta il quotidiano avvio delle attività in caserma, proseguendo poi con briefing e informativi sulle possibilità offerte sino a vedere cimentarsi in attività pratiche a connotazione addestrativa. Il personale ha listato a giovani le funzioni e le prospettive di carriera, un open day che ha rappresentato di certo un'occasione unica per acquisire e conoscere e avere un primo impatto diretto con la vita militare grazie al Comando Militare Esercito con la collaborazione del nono. Oggi in questo open day viene data la possibilità ai ragazzi di vivere un giorno in caserma e apprendere, gli vengono dati dei consigli per poter affrontare il concorso WFI nel migliore dei modi e poi gli vengono date anche una serie di suggerimenti anche per le future carriere come l'ufficiale o il sotto ufficiale dell'Esercito. C'è interesse da parte dei ragazzi per la carriera militare? Beh sì, c'è sicuramente molto interesse e uno dei compiti del Comando Militare Esercito Abruzzo Molise è la promozione e il reclutamento e noi stiamo andando nei paesini più sperduti dell'Abruzzo e soprattutto nella zona di Chiedi Lanciano dove fino adesso l'Esercito non è stato molto presente perché non ci sono tante caserme per portare la nostra parola e poter anche portare in quelle zone la promozione del reclutamento.